Il T-Alert, questo test sperimentale e rivoluzionario per l'Italia, è importantissimo. Domani faremo la prima prova a carattere regionale. È un sistema di allarme che si tratterà di un suono di una sirena che a mezzogiorno di domani, esattamente, sarà percepito da tutti i telefonini. Non preoccuparsi se arriva questo, ma una volta toccato poi lo schermo apparirà un quesito a cui rispondere. Domani alle 12 e assolutamente tutti attenzione al segnale che arriverà dal telefonino. Domani a mezzogiorno squillerà il vostro telefono con una suoneria che tra l'altro non conoscerete ma sarà proprio una sirena e vi comparirà sulla home un messaggio che coprirà tutto lo schermo. Voi dovrete cliccare sul messaggio e possibilmente, se volete fare qualcosa per il sistema, rispondere al questionario a cui verrete rimandati, in modo tale da migliorare il sistema. La risposta al questionario non è un obbligo ma è fortemente indicata per migliorare il sistema IT-Alert. Assolutamente sì, è consigliato, viene chiesto di rispondere al questionario perché può migliorare il sistema e tra l'altro è chiesto di compilare il questionario soprattutto a chi non riceverà il messaggio in modo tale da capire quali sono eventualmente i gestori che non sono ancora ingaggiati in questo sistema e poter poi coprire quando sarà a regime tutto il territorio nazionale. Il test è importante perché poi quando il sistema funzionerà ogni cittadino che è all'interno di un'area dove c'è un rischio molto forte, rischio anche per la pubblica incognuità, per la vita, verrà avvisato e con questo test, con tutta la formazione che comunque noi facciamo sul rischio, potrà mettersi al sicuro e non subire danni soprattutto alla persona.